Parte a Napoli con una flotta di veicoli 100% elettrici Renault ZE l'innovativo progetto di car e van sharing Ciro che sta per city roaming. Sviluppato dall'associazione Napoli città intelligente Ciro sperimenterà un sistema inedito di ottimizzazione del traffico cittadino con ben 12 veicoli Renault ZE. Otto Zoe, la nostra piccola berlina cittadina ipertecnologica ideale per muoversi in città. Tre Kangoo ZE, la furgonetta elettrica ideale per il trasporto merci in ambito urbano. E infine una Fluence ZE, la berlina grande per viaggi confortevoli. Dunque una gamma di vetture per rispondere a tutte le esigenze di mobilità di cittadini, operatori professionali e turisti. Grazie ad un innovativo software di navigazione e di infomobilità appositamente sviluppato si potrà razionalizzare la circolazione in città abbinando le classiche funzioni di navigazione, un inedito sistema per l'ottimizzazione dei tempi di viaggio e informazioni sul territorio come luoghi turistici, culturali, shopping, ristoranti. 4 sono i Ciro Point, 4 chioschi multimediali dislocati in diversi quartieri della città partenopea ed equipaggiati di totem interattivi che consentiranno non solo l'iscrizione al servizio del sharing in tempo reale e l'accesso all'utilizzo dei veicoli elettrici Renault, ma anche la possibilità di espletare delle pratiche amministrative a chilometro zero. La prenotazione del veicolo potrà essere effettuata sull'apposito sito web cityroaming.org oppure tramite la specifica app per smartphone e non necessita di abbonamento, elemento questo molto importante per consentire anche ai turisti di usufruire del sistema. Ciro e Renault per una mobilità del futuro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.